ma di gioco quel cavolo che si può prendere anche perché li hanno letto ma il battito ma il battito attaccato una distanza chilometrica c'è ma fatti una vita allora che c'è la gente è sicura uno me lo sono già pillato ci sta uno sul tetto e non so perché sta aspettando viene sparato dal bot palese la vedo o se le amo io le vaffa***** a me se le amo io io non ho mazza eh non so se tu hai qualcosa di durità di durità ho 5 di vita marty devo scendere vabbè hanno già il rampino però il volto non l'hanno ancora aperto possiamo campionare il volto un po' di davanti 30 campioniamo il volto il volto ancora chiuso erano sopra il tetto quando gli ho sparato un colpo eh un tipo però immagino che andano al volto dai hanno la cardo scusami qualcuno lo fa ah sta lacerando senti senti si si forse hai messo a band di vita io no sta restando ecco l'aveva questo lo scar tutta perfetto dai se vuoi lo scar a me basta il rampino vai vai te lo ho sciotto ma cosa hanno fatto qua con le tutura dove ah e volevano fare qualcosa per lo sims diving sprovabile palese per forza si 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 ci sa un cuore pure Marti si hai cioè I love you e quello dovrebbe essere un'auto chi è? guardo chi è? non lo so chi è dai è figata questa cosa bellissimo dai aspetta un attimo mi hai metto dalla prospettiva diversa vai vai guarda che c'è l'altro canto mi ha lasciato un po' un po' blu finalmente è un po' ti voglio bene però devo ucciderti perché sennò ci butta fuori per te uccidete no non piangere ti prego non piangere no no vincerò questo game per te è una promessa un bacio vincerò questo game in onore di questo ragazzo che mi ha scritto I love you con il cuoricino Dani abbiamo un compito a vincere il game vai 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 hai sparato tu? no 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 c'è gente allora hanno ruota col famas ero uno qua qua davanti c'è una sbaglia no dietro qua davanti a me l'altro è lì dietro l'albero è stata la cecchinata però non ho capito perché andiamo ragazzi compito vincere compito vincere ragazzi compito vincere la partita ma quanti elicotteri hanno? ma infatti ha la minican 1 1 l'ho cerato gli ho tolto tutto l'ocello hai abbastanza mazzo però si si ok allora calmiamoci tocca vincere il game ha la minican 1 non so se è quella mitica considerando che ha un elicottero potrebbe venire da là si si l'ha cerato morto l'ha cerato pure quello sopra domate 5 a ninja buono sta arrestando mi sa morto 1 morto 1 morto 1 rimpiazzo c'era uno da me sono quasi morto l'ho tipo bisciuttato mi cura arrivo ok guarda lì guarda lì non sto non ho preso il finish ha un revelizzato qua stai adattano questi si si lo vedo 35, 46, 54 47 è morto si sta allendando altra gente a tosse non ti preoccupare l'ho bloccato 94 capito non ha più mazzo pure io ho 100 io proprio non posso build diverso c'è uno qua da me ianko morto è sempre lo stesso si perchè non l'avevo finito ok quello i niger la posso prendere si si li ho li vuoi? ok vado di rampino io vai vai vado di jump tanto non ti avevo blocco il pad non voglio che lo prendano sono sotto morto vi faccio sloper vai vai arriva 184 ma tutta mia che sto giocata oddio ho un mini per te no 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 due troppi insieme capace che ci vanno se vuoi la giampa te vai 100 tipo 33 3 questo qua dobbiamo pushare sta shildando 3 3 3 8 shild vai aggro dove ci sono altri flopper eh vai gli opri faccio cadere da like cade 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 non attaccarti non attaccarti ok vai uno lì davanti a te marty dietro l'albero ma è sull'albero questo qua per forza Dani era qui sopra era qui sopra come è possibile proviamo ma è morto c'è un loot lì si che era già noccato davanti a noi vorrei un attimo in mini e arrivo non posso ho un altro jump a te lo pushiamo questo qua vai vai e qua la minicon questo tizio non mi ha vista non sopra di lui va vai 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 forse l'ultimo gli ultimi due due situation ragazzi attenzione vieni vieni ma li hai visti? no giusto per abbattarti danni secondo me eh infatti pure secondo me nel bush ti prego hai la minica intanto eh ma la minica non spacca i bush sta cosa la odio vabbè però puoi spammare cioè non penso che non ne batti uno se c'è dentro what come un'altra volta Dani e te è sempre così uguale o ma come è possibile eccoli 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 ela la 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 no sono sono gente vera gente vera sono in low ground questi sono nostri easy kill a che bello che l'ultimo e bianca 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 bella o grande con mini che detto mica ragazzi non mi è andata proprio bene questa era in tuo onore un ragazzo al ragazzo che mi ha fatto il cuoricino e ma scritto e love you in chat questa partita era per te cavolo cavolo supermeritatissima nessuno è metodo così tanto romantico come te neanche irl k